Lorenzo Lecco, vai! Ciao Giuseppe, ciao Giuseppe, sono Lambre. Allora, non mi trovo per niente d'accordo con te, con la tua affermazione. Oh, mitico Lambre Nedetto, se non sbaglio. Grazie, grazie, ti saluto. Sai che Lambre Nedetto, sai cosa ha fatto quest'estate, Davide? Ho visto un video a un certo punto, ma tu non sei un cazzo di quello che gira sulla rete. Cioè, tu non sai niente, sei solo di cose di politica. Allora, Lambre Nedetto, mitico Lambre Nedetto. Lambre Nedetto. Pubblica delle cose sulla rete. è andato in giro e ha fatto un paragone tra la pulizia... Ma che albanese? Milanese. Brianzolo, non so di dove cazzo... Di Bergamo. Di Bergamo. Ha fatto un paragone tra la pulizia delle stazioni svizzera, se non sbaglio, e passato il confine, tre chilometri dopo, come la pulizia delle stazioni italiane. Sono cose da vedere interessanti. Vabbè, che cazzo vuoi? No, niente, che non ero... Allora, Giuseppe, sai che io sono sempre d'accordo con te, alcune volte. Ma non devi essere sempre d'accordo con me. Allora, non sono d'accordo sul discorso delle armi. Cioè, tu pensa, Giuseppe, se queste... Girassero le armi in Italia come in America. Cioè, tu pensa... Più armi per tutti. Non mi interessa, io ne faccio una questione di libertà. Più armi per tutti. Ovviamente con le leggi esistenti. Ma quelli che ti sono venuti fuori dalla radio, se quelli erano armati, ti sparavano, Giuseppe. Ma che c'entra adesso questo? Dai, su. Armi per difesa personale è un conto. Ma io di quello parlo, per difesa personale. Non è mica armi così a cazzo di cane, dai, su. Con tutti gli scoppiati che ci sono, bisogna stare attenti. Comunque ti saluto, un abbraccio. Ciao, ciao, Lambre, ciao.